Musica Bella a tutti ragazzi, qui è Bazzu che vi parla E lì c'è una sedia che non c'entra niente E oggi siamo su un nuovo gioco Blondstie di Battle Il mio inglese è fantastico Quick play C'è una musica che ti storna le orecchie In un modo Fammi abbassare il volume Perché sennò mi uccido Ok Non ci sto capendo tanto Ah è tipo una sfida no? Non ho capito niente Quelli sono i cash Sì sì Posso upgradearlo Dai Non sto capendo Cioè serve pure un cannone per distruggere i palloncini Ma era troppo semplice Z Ok Potenziamo una scimmia No ma quanti li hanno mandati di là? È ovvio che vinco Ah no c'è un'altra scimmia qua Questa qua la potenziamo doppiamente Oh porco cane Mi sa che ho finito i soldi Sì ma tipo ci sono ste scimmie che adesso sparano Delle bombe atomiche Tipo No Ma ho speso soldi per farmi inviare più palloncini contro di me Ah no no Quelli sono i miei raga O no Beh se non basta tutta sta roba Sì ma lui che ha messo Ha messo bombe nucleari Scusami Cioè su un tipo Più costano Più significa che sono potenti Indestruttibili Uccidi tutti Capite ma lui ha messo Dei razzi atomici Cioè Come faccio a contrastare questo qua Ma io adesso faccio così No Ops Sì ma adesso colpiscono Tipo Cos'è A chilometri di distanza Poi Noi siamo più intelligenti ancora Mettiamo un altro canno No non posso Bestia Ho 21 triliardi di Di euro Cioè praticamente No Devo mettere questo coso qua Ma perché Fa schifo Spara chiodi Ogni morte di Di vescovo Vabbè Tanto non ci arrivano Manco i palloncini Ella Che cavolo di palloncini sono Sono immortali Spedisci Spedisci Spediscene Spediscene Adesso fai una cosa Tipo Basta col tutorial Voglio giocare Ella madò C'ho il cecchino Vai Vai G Batto l'arena Non sto capendo Non sto capendo niente Raga Ok Così devo comprare cose Questo è 100 Ma io non ho 50 Compra questo Che questo è 65 Tirchio assoluto C'era quello da 40 Che potevo comprarlo Ma io super tirchio Compro quello da 5 Io sono pronto Dai Dai Svegli Dai Gio Svegliati Cavolo Svegliati Siamo online Dobbiamo battere tutti Chi è? No no Facciolo rivedere Che se no Dopo non sappiamo Che cos'è Metti tipo Le super scimmie Perché le scimmie Sono troppo potenti No 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 Io voglio mettere Altra roba Un'altra scimmia Spacca 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 Piazza Quella da 500 In mezzo Che uccide tutti Tanto può lanciare 42.000 volte Quello che possono lanciare Gli altri Poi qua metti Tipo un cannone Poi metti Un super cecchino Qua Che spara Qualsiasi cosa Arriva Poi Investi in palloncini Più potenti Sempre palloncini Sempre più potenti Eh lui si Ha una nave Lui Noi mettiamo Altro questo qua Poi Noi siamo degli spendacioni Mettiamo tutti questi qua Poi Cioè vuoi non potenziarlo Tanto tu potenzia tutto Potenzia tutto Tanto non finiamo i soldi Ce ne danno 50.000 al secondo Questo qua non potenziarlo Anzi Fai extra range Cioè adesso Arriva ovunque Questo cannone Però viene distrutto Tutto prima No Ci ho finito i soldi Raga No Questo già di nuovo Full metal jacket Che cavolo è quella roba Cioè tipo Super potente sono E allora Piazza Potenzia Compra 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 E' potenziato tutto Devi potenziare tutto Al massimo Questo gioco Raga E' tutto Di potenza Cioè voi potenziate Tutto al massimo Poi E' la Ah Cioè se potenzia Arrivi tipo così E' intanto Chi spende più soldi Per i palloncini Compro quelli tipo da Da 400.000 euro Lui da 90 euro Che sono tipo Semindistruttibili Tanto non possono Praticamente essere distrutti Quei palloncini Perché lui è un mago Che è sta storia Prepara Compra 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 Cucumbra Eh si Cioè Spendo 90 dollari Per mandare un nuovo Carazzato Prossima volta Dai 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 Spendi 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 Quello da 125 Voglio Perché Si Spendendo più Più soldi Che Tutti gli stati uniti D'america In un anno In armi Io devo ancora Capire cosa sta Succedendo No Io voglio Poi da 600 Aspetto che Si sblocchi Tipo questo qua Ma no Si sblocca Soltanto tipo A round 15 Siamo al 13 Vabbè Si sblocca Tra poco Si ma Questo è un botto Sti robi Guardate Quanti gli hanno Mandati Se non vinco E' vero Bisogna Bisogna Spammare Ho capito tutto Raga Se voi Spammate All'inverosimile Vincete per forza Ma io sto chiamando A me I palloncini Vai 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 300 costano Questi 600 Perché Questa 600 Ma intanto Questi qua Sono più resistenti No 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 Che succede Che succede Che succede No buono No buono No buono No buono Porco diamine Lui è 150 Dai raga Dai Devo batterlo Devo per forza Batterlo Non ho capito Niente raga Di sto gioco Posso piazzare Piazza 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 E dai Piazza Z Piazza Pobre Spacca Anche tu Vai 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 È tutta È tutta Questione di potenza Potenza massima Vai 1500 l'uno Ma io sono sotto Di un botto Di soldi Raga Devo spammare Questi qua Rossi Ho capito Tutto Bisogna far Così Distroi Io Devo ancora capire Ragazzi Come si fa A vincere Dai 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 Non 90 Non 90 Spamma Spamma 2500 C'è Etta Qui come diamine Fa a spammare Così tanto Vai 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 Quelli bianchi Quelli bianchi Quelli bianchi Quelli bianchi Che sono tipo Cosa gli ho appena Mandato io Sì ma è Uno schifo No no Mi sta distruggendo Bestia Questo No E Ma che Sta roba Qua No Ho perso Giuro Ragazzi Questo gioco È Una potenza Assurda Ve lo riporterò Sul canale Per oggi è tutto Ci vediamo Alla prossima E Ciao